La mia sensazione è buona, non vedo l'ora di cominciare. Sono arrivato bene qua, la squadra mi ha subito messo bene, ho fatto il primo momento, è subito dura, però mi avevano detto che il mister lavorava tanto e sono contento. Ringrazio il presidente di avermi fatto venire qua, sono contento e spero di fare tanti gol per ringraziare. Adesso devo dimostrare che sono il giocatore che sono, anche con una stagione un po' difficile l'anno scorso, però sono sicuro che se sto bene farò molto bene. Il ruolo dove mi sento meglio? Direi la seconda punta, uno dei due punte, come gioca la Sampdoria, come gioca il mister. A Cesena ho fatto questo ruolo e mi sento molto bene, ho fatto delle belle giocate, tanti gol, poi a Sassuolo ho fatto più la punta centrale che un po' un altro ruolo, però mi sento veramente meglio a due punte. Il mister Gianpaolo lavora tanto tatticamente, ancora non abbiamo parlato poco perché sono appena arrivato. Mi hanno detto che dopo guardiamo un video sulla tattica, come si muove un attaccante anche senza palla e non vedo l'ora. Anche stamattina ho visto i bel movimenti, un bel gruppo che lavora tatticamente e sono contento, mi piace lavorare così e come l'ho detto non vedo l'ora di iniziare. Il derby mi aspetto tanto calore e tanta voglia di quello che ho visto in tv, è veramente un derby sentito in Italia. Anche questo è una bella cosa, l'anno scorso ho fatto il derby di Roma, quest'anno farò quello di Genoa e spero di fare tanti gol al Genoa. Personale mi aspetto di ritrovare la prestazione, quello che mi è mancato l'anno scorso, la prestazione fisicamente e poi il gol, penso per un attaccante se c'è la prestazione arriva anche il gol. Quindi personalmente spero di ritrovare questa prestazione e poi a livello del gol fare il mio record che sia da 12 in campionato o arrivare a doppia cifra sarà una grande cosa. Ai tifosi della Sampdoria vorrei dire che lavorerò duro questo ritelo per essere pronto per l'inizio del campionato e darò tutto il massimo e spero di fare tanti gol. Grazie per la visione!